A quasi 40 anni dalla sua chiusura torna a far parlare di sé la SACFEM. Il tema è quello sempre dell'esposizione alle fibre di amianto che ha interessato decine di dipendenti del reparto ferroviario, provocando a distanza di anni moltissimi casi di asbestosi e anche numerosi decessi per malattie polmonari. In questi giorni è arrivata una nuova sentenza di condanna per la Bastoggi, azienda milanese che all'epoca controllava e gestiva la SACFEM, sentenza con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo, dottor Rispoli, ha riconosciuto ai familiari di un ex dipendente un maxi risarcimento per la mancata predisposizione delle misure di sicurezza atte a prevenire l'esposizione con l'amianto largamente utilizzato per la produzione e la riparazione delle carrozze ferroviarie. I familiari della vittima sono stati assistiti dagli avvocati Aretini, Sabrina Candi, Vittorio Martinelli e Simona Bianchi, coadiuvati da un vero e proprio team di collaboratori ricercatori che hanno ricostruito la realtà storica di fatti all'interno del cosiddetto fabbricone. Secondo i legali questa sentenza, pur a distanza di così tanto tempo, riporta uno spicchio di giustizia, almeno dal punto di vista storico-giuridico, su una realtà che se da una parte è stata il fiore all'occhiello dell'industria retina del Domecento, dall'altra ha lasciato una terribile scia di malattie e decessi che solo negli ultimi anni è venuta prepotentemente alla luce tra tutte quelle centinaia di persone che avevano lavorato in SACFEM. 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 SACFEM.